A Risside, Alfonso, Nella, Vladimiro e Amelia sono i fortunelli donati da Copp Lombardia all'ospedale di Cremona. Centinaia di pupazzi destinate ai reparti e servizi di pediatria, pronto soccorso, patologia neonatale, nido, ambulatori, consultori e vaccinazioni che verranno regalati ai bimbi e ai genitori che frequentano le strutture ospedaliere di Cremona e provincia. Un'iniziativa per rendere l'impatto con i luoghi di cura meno traumatico che regalerà un sorriso ai più piccoli che si apprestano ad entrare in ospedale. Copp Lombardia ci ha sostenuto in questa iniziativa ma che è rivolta ai nostri bambini. Noi la apprezziamo perché ci piace l'idea di lasciare un buon ricordo a tutti i bambini che transitano in ospedale perché hanno bisogno. Tutti i bambini che verranno qua per pronto soccorso oppure per episodi di ricovero, io mi riferisco all'intera azienda, quindi vuol dire sia Cremona che Oglio Po che è Casal Maggiore, quindi è tutta l'azienda, riceveranno questo ricordo. Non è un contributo al reparto ma è veramente un segnale che si dà a ciascuno dei bambini che vengono qua. I peluche sono parte del progetto Alimenta l'Amore attraverso il quale in questi anni grazie alla raccolta permanente di cibo per animali in monti punti vendita Copp Lombardia sono stati donati oltre 600.000 pasti a cani e gatti in difficoltà e sono state avviate tantissime iniziative sociali come quella promossa grazie alla donazione dei fortunelli. Quest'idea è nata già nel 2014 con il progetto promosso da Copp Lombardia Alimenta l'Amore, progetto sostenuto con gran forza dalla cooperativa ma con l'aiuto di una rete di comuni della regione della Lombardia e con delle associazioni animaliste. Il progetto aveva come focus quello sicuramente di donare dei pasti per gli animali domestici, quindi recuperare dei pasti da donare attraverso l'associazione di volontariato che si occupano di gestire questi animali nei canili e gattili e l'abbiamo fatto attrezzando i nostri supermercati con delle ceste dove i nostri clienti, i nostri soci in qualche modo fin terminato l'acquisto dei loro prodotti potevano donare i prodotti per queste associazioni. Da lì è nato un proseguimento del progetto, quindi il collezione all'amore è stato così denominato che ha fatto nascere la possibilità di acquistare attraverso i nostri punti vendita questi simpatici pupazzetti.